Ci facci morfiglia? Dai, io bravo, vedi. E dai, io bravo. No, io non so, io ricapello. E manco io so truccata, qui c'è sempre quando non so truccata, guarda, sa. Dai, Giorgio, per piacere. Giorgio. Non trasmettere nulla, che è molto più bella. Io me devo fare i capelli. Ma tu stai bene così? Ma che sto bene così? Piaci tanto a tuo marito, quindi stai bene anche per me, lo sai che noi artisti, se non siamo un po' così, non siamo artisti. Come faccio a non piacere a mio marito, scusa? Che ne so io? E' 43 anni, che me lo poccio. Ma perché lo sei stufato? Eh? Non sei stufato? Questo? No, per caso mai mi dovrò stufare io, scusa. Sì, ma tu lo trovi uno cucino alto, della massa battente dell'Umitra, al di fuori di io. C'hai ragione, c'hai ragione. Quindi, siete una bella coppia. Grazie. Hai una bella famiglia. Grazie. I figli vanno molto bene. Magari Dio, speriamo sempre bene. Sì, ciao, tutti quanti, bene. Sì, speriamo sempre bene tesoro. Guarda questa che si è messa l'occhiali. Lei è due attrici. Queste sono state due grandi attrici. Guarda che rimane nella storia con Giorgio, ricordatelo. Sì, sì, ti facciamo una cosa. Guarda che sono ancora grandi attrici. Levate questa mascherina, cantate. Befana. Befana. Come befana? Befana. Ma che befana? Giorgio ha in mente di fare qualcos'altro con noi. A breve vi faremo sempre. Anche con me vorrebbe fare qualcos'altro. No, no, io vanno di teatro. Ah, teatro. Eccola lì. Sto zitta, Gignola. Mannaggia te. Eh, Gignola. Mannaggia te. Guarda che occhi. Mannaggia, guarda che occhi. Guarda che mare. C'è la bimba che vai. Gignola è la mia regista che ci abbiamo. Gignola è la mia regista che ci abbiamo a Coridonia. Piena di idee e quindi bisogna... Sì, no, ma abbiamo tanta roba di ricchezza, Coridonia intellettuale, artistica. Questa volta mettiamo dentro tanti giovani, Giorgio. Tanti giovani mettiamo dentro. Dove? Nella commedia. Ah, ecco i giovani. Eh, molti giovani. No, le befane come voi. No, noi siamo dietro le quinte. No, noi dietro le quinte. Sopportiamo, sopportiamo, sopportiamo. No, voi siete gravidate. Capito? Quella commedia lì che è andata per mesi qui su Teletolentino, no? Ah, eh. Ma sai quante volte l'ho vista? Sì, Teletolentino. Guarda che le clienti tutte le volte che la rivedono, fanno i complimenti, dicono ma perché ne siete fermati? Mi sono divertito sempre tanto. Perché ne siete fermati? Molto probabilmente ha fatto divertire. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. Con i piedi, con il cuore, con il la. Con le gambe, con le gambe. i baci vai, avrai, avrai avrai, avrai eh no, la figa non la pio no, non la prendo non la prendo, non la posso pia avrai, si parla, Giorgio e cosa stai facendo? cosa stai facendo? è fatto barca, barca non stai facendo il sangue guarda, guarda ma che gli hai dato a bere che gli hai dato a bere oggi a queste non le vede qua? Grazie Grazie